E' bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Uno, due, tre, prova, forza Juve! E' uno dei leader della Juventus. Ha un cuore grande in campo e fuori. Giorgio Chiellini è il primo giocatore italiano ad aderire a Common Goal, un'associazione benefica creata da Joan Mata, campione del Manchester United. Si tratta di un progetto di beneficenza in cui in ogni parte del mondo, a seconda delle esigenze locali, si cerca di aiutare le persone che hanno più bisogno sempre attraverso il calcio. Grazie mille Giorgio. Sono molto contento che tu abbia aderito a questo progetto. Benvenuto in Common Goal. Su internet ho letto che Mata aveva lanciato questo progetto, poi dopo ho visto che anche Umel s'ha aderito, ci sono nomi importanti ed era un progetto che mi ha subito ispirato tanta fiducia. Per me aiutare dei bambini meno fortunati significa gioia e energia vitale. Credo che per i bambini si debba fare di tutto proprio per renderli felici. Ho fatto file e file per ricevere un autografo, fare una foto e quindi cerco sempre di pensare, di ricordare all'emozione che provavo io quando ero un bambino. Essere un esempio per tanti ragazzi è un onere ed un onore perché alla fine è una parola detta da noi tante volte più convincente rispetto a qualcosa detto dai genitori e questo ci dice tutto sulla nostra importanza. Il calcio mi ha aiutato a diventare uomo alla fine perché poi sono cresciuto, ho condiviso esperienze con tanti ragazzi, ho sognato insieme a tanti ragazzi e per fortuna con qualcuno di loro sono riuscito a realizzare il sogno che ci siamo poi ritrovati prima da bambini e poi da adulti nel calcio che sognavamo, in nazionale, in Serie A e questo è bellissimo. Non tutti ce l'hanno fatta, però sognare è davvero una cosa bellissima. Giocare a calcio non mi ha impedito di studiare ed essermi laureato per me è stata una grande soddisfazione, una prova con me stesso e anche una dimostrazione che alla fine è la volontà che fa raggiungere ogni obiettivo sia nella vita che nello sport. Studiare, aprire la mente e avere la conoscenza è un'arma molto molto importante anche per diventare calciatore. Il talento è una dote che o si ha o no, la testa si può costruire. Io sono una persona che è cresciuta grazie alla testa, grazie al lavoro, grazie alla passione. A tutti i bambini del mondo che sognano di diventare campioni dicono di vivere davvero il calcio con la gioia tutti i giorni. E ovviamente forza Juve! Grazie a tutti!